Ma dai, ma i piedi storti c'hai? Ma i piedi storti? Manco c'è strana era? Ma che cos'è? No, no, sbagliato, no, no, mondo crudele Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Switch Sport Ragazzi, oggi voglio provare a fare i calci di rigore Quindi utilizzeremo davvero la fascia e andiamo a provare questa modalità che in realtà non ho ancora provato E dalla vostra biondona di quartiere è tutto, beh io direi di iniziare Ma voi supportate i miei video con un bellissimo like e soprattutto vi farò vedere di che pasta sono fatti i miei piedi e non di formaggio Allora, numero uno, non so se si può fare anche online, mi pare di no Facciamo rigori, quindi in questo caso ragazzi ci servirà la fascia Livello CPU direi normale, direi normale Io sono brava, porta in tutto, ma la CPU non scherza Direi normale, vai vai, allora qual è il primo telecomando? Ok, normale, ok Io tiro con la gamba destra Quindi in questo caso dobbiamo prendere la fascia perché anche il gioco ci dice di mettere la fascia Un po' come su Ring Fit Allora, voi jeans ragazzi non fate questa cosa con i jeans Gamba destra, sì abbiamo messo destra Quindi andiamo a mettere la fascia sulla gamba Mi sento un salsicciotto nella gamba praticamente Tra i jeans e la fascia ragazzi La mia povera coscia è una salsiccia Ah, tira prima la CPU, ok Va bene Sembra molto semplice ragazzi, sembra molto semplice Ok, sono pronta Sono pronta E prova a calciare muovendo la gamba Che indossi Ok, vai, sono prontissima Che gol ragazzi Cioè stavo per mancarla Sbaglia, sbaglia, sbaglia Ha sbagliato Ha sbagliato Io ho la mia sportività ragazzi, incredibile Allora, vai Mamma mia ragazzi Mamma mia Prenditi sto gol Sbaglia, 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 sbaglia No, mi ha sbagliato Va bene Sembra che sto giocando a karate Cavolo sto facendo Vai No, no, ho sbagliato Ho sbagliato È imperdonabile Questo sbaglio è imperdonabile Siamo pari, no Io non ho intenzione di perdere con la CPU È sbaglio ogni tanto Che hai i piedi dritti Cioè hai i piedi dritti questo Vai Inizia questo gol Ragazzi, era super super centrale Ragazzi, era super centrale Ma no, ma gli hanno usato la palla d'oro Gli hanno usato Ma la palla d'oro no Ma perché la palla d'oro? Se pure a me me la dovete dare Adesso me la dovete dare pure a me Vai Concentrati No, mi è volato il calzino Ragazzi Mi è volato il calzino È pure brutto Però è un calzino grigio No, vabbè ragazzi Il calzino grigio Capito, è volato Ah, ha sbagliato Ha sbagliato ragazzi Ho la vittoria in pugno Voi non l'avete visto Perché la telecamera Abbassa la mia parte Il calzino Giustamente Uh, ma che cavolo è La palla d'effetto Intanto prendilo 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 Uh Voi fatemi sapere sotto nei commenti Se avete provato La modalità rigori Ma adesso Voglio sfidare La CPU Forte Facciamo fortissimo Facciamo fortissimo Fortissimo Quindi voglio un like Perché stiamo sfidando La CPU Fortissima Uh James Io non ti temo Io e il mio piede Senza calzino Ti Sconfiggeremo Ma io lo rimetto dopo il calzino Vai Mi riscaldo Vai vai Sbaglia 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 Ovviamente è fortissimo Lui non sbaglierà mai Dobbiamo Non dobbiamo Non sbagliare noi Ok Vai Sì sì Lo so Proviamo Vai 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 Ci do No Ora Punto I piedi ce li ho dritti I piedi ce li ho dritti Avete capito Spettando di prendermi un giro Quando gioco a questo gioco Mizzica pure lui ce li ha dritti però Pure lui ce li ha dritti Senti Giro un po' il piede Poi Mizzica ragazzi al centro Gli lo metto Al centro Gli lo metto Questo pallone Al centro E' bellissimo Sbagliato Sbagliato No No Mondo crudele Non è giusto No Guarda questo Ah però la porta si rimpicciolisce Ma lui però non sbaglia mai Cioè scusami Per lui non sbaglia però Eh qua Qua è dura da recuperare Cioè se lui segna E' finita Sbaglia 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 La danza dell'errore Ma niente Sì però Se lui Non va bene Ha vinto Certo che ha vinto Non sbaglia mai Voglio la rivincita James Sembra quello del team rocket Vai Voglio la rivincita Ah di nuovo questo Sfidiamo Di nuovo questo Ma chi è Ma chi lo conosce Volevo sfidare James Poi com'è che tirano prima loro Cioè chi ha scelto Chi tira prima Cioè potrei tirare prima io E' due ore che sto giocando Sbaglia Niente Questi questi non sbagliano raga Come dovrei vincere Con la cpu fortissima Che non sbagliano Come dovrei vincere Sì sì Ho capito Sempre sta cosa Vai Sono pronta Ah Ah Aiuto No Mi sono fatto male Ai 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 Ah Ai ai Sono viva Sì sono ancora Ai 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 Ah Mi sono fatto male Ho preso la sedia Giocate con le scatte Ragazzi Ai 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 Aspetta sono invalida Eh vabbè Però tu non mi puoi lanciare le palle Mentre ho Ho preso col piede Praticamente il braccio Della sedia Perché ovviamente Io non ho lo spazio Per giocare a questi giochi Ho lo spazio Ai 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 Aiuto Allora quando Allora quando Vi compaiono le Le immaginette Dove vi dicono Eh Giocate con Con lo spazio Ascoltate quelle immaginette Ai 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 Il mio piedino Ragazzi Ai 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 Mi bastava il braccio E sto pure perdendo Oh però L'ha sbagliata Ma io ne ho sbagliate i due Io ne ho sbagliate i due Ragazzi Uffa Ne dovrebbe sbagliare un'altra Ne dovrebbe sbagliare un'altra Comunque penso che il punto giusto sia Quando la palla è vicino ai piedi Sbaglia 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 Questo non sbaglia Non sbaglia Non sbaglia Non sbaglia Ha vinto sempre lui E si Di un punto Va bene Con il piede distrutto Ti sconfiggerò di nuovo Non mi interessa Provo a lanciare così Cioè guardate Ho la gamba Che sembra un salame Un prosciutto legato Ok Sempre l'oro per primi Ovviamente Che decide queste cose Non lo so Ora è il mio turno Grazie Finalmente Oh È sempre sta cosa Vai Sono pronta Questa volta vincerò Ci potete Ma dai Ma i piedi storti C'hai Ma i piedi storti Manco Centrale Ma che cos'è C'hai i piedi storti Ma veramente Già i piedi storti Ma posso fare Secondo me posso fare La rovesciata Vediamo Vabbè Non era proprio Una rovesciata Però Abbiamo fatto gol Cioè l'importante È sfugnare Non importa come Comunque se lei sbaglia Magari potrei anche Rimontare Cioè però non è giusto Ma sbagliano mai Sta cpu Cioè cpu fortissima Significa infallibile Oh centrale Vai Sbaglia Sbaglia Ragazzi Sbaglia 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 Dai sbaglia 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 Le piccoline Alla porta Sbaglia Inizia Ma questa Ma così Sbaglia Ma non è giusto È un'ingustizia Poi Date La chi è svantaggio La palla d'oro No a chi è in vantaggio Eh no Eh no Io prendo di nuovo l'acqua Ok Il calcio Sappiamo che non è Diciamo Come dire Sbaglia 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 Niente Questa Questa è infallibile Beh Stato dicendo Il calcio Ahimè Non è Il mio sport Perfetto E diciamo che l'abbiamo notato E non Non solo Me ne vado Con un piede rotto E un calzino No Bucato No perché In ogni caso Fatemi sapere Se avete provato La modalità Rigori Con la fascia La gamba Se non avete comprato La fascia Vi ricordo che potete Acquistarla Nei negozi O su Amazon Io come al solito Vi ringrazio Per aver guardato Questo video Lasciate un like Iscrivetevi al canale Fatemi sapere sotto Nei commenti Qual è il vostro gioco preferito E quale vorreste vedere Sul canale più spesso Detto questo ragazzi Ci vediamo In un prossimo Video In un prossimo